Non è bastato il contratto pluriennale con la RAI e la sua futura conduzione di affari tuoi su RAI 1 a far tacere le voci di gossip su Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e oggi con la RAI. Non è bastato il contratto pluriennale con la RAI e la sua futura conduzione di affari tuoi su RAI 1 a far tacere le voci di gossip su Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e oggi con la RAI. Il napoletano non è nuovo al gossip, anzi, spesso è finito sulle pagine dei giornali per le sue relazioni interpersonali più che per le sue imprese televisioni. Si è parlato di lui quando stava con Emma Marrone, relazione finita a causa del flirt tra De Martino e Belen Rodriguez, nato sotto i riflettori di Amici, con cui lui si è poi sposato. Si è parlato di lui quando stava con Emma Marrone, relazione finita a causa del flirt tra De Martino e Belen. Poi si è tanto discusso dei continui tira e molla con l'Argentina che hanno portato a diversi allontanamenti e riavvicinamenti tra i due sfociati in una prima separazione che ha spinto Belen tra le braccia di Amici. Poi si è tanto discusso dei continui tira e molla con l'Argentina ma De Martino si è rifatto subito spazio nella vita di Belen tornando con lei un'altra volta per poi mollarsi. Questo tanto atteso riavvicinamento tra i due, infatti, non è durato molto e lo scorso anno c'è stata la rottura ufficiale tra i due che ha lasciato Belen in piena crisi e costretta che Questo tanto atteso riavvicinamento tra i due, infatti, non è durato mo' oggi, che tra Stefano e Belen sembra essere tornato il sereno. Si è tornato a parlare di lui per un presunto ritorno di fiamma con una ex con cui Stefano sarebbe stato avvistato a una festa. Stefano De Martino è stato alla festa di De Attico, il brand di moda fondato da Giulia Tordini, ex di Antonino Spinaldese, e Gilda Abrosio, ex dello stesso di chi si tratta. Di Gilda Abrosio A mostrare la sua presenza all'evento è stato lo stesso De Martino pubblicando le stories su Instagram e taggando Abrosio. Lui e Abrosio sono stati paparazzati in barca in atteggiamenti inequivocabili anche se, in quel periodo, De Martino era stato avvistato con diverse donne, oltre che con Abrosio.